La crisi delle imprese sulle quali si è abbattuto un notevole aumento dei costi per le energie facendo schizzare alle stelle le richieste di pagamento delle utenze con aumenti fino al 400% spinge la Camera di Commercio di Napoli a studiare interventi mirati attraverso la pubblicazione di bandi. Entro la fine del mese di settembre saranno varati provvedimenti che vanno in una duplice direzione, ad affermarlo il presidente dell'ente camerale partenopeo Ciro Fiola. 30 milioni di euro a favore di piccole, medie e piccolissime imprese miranti al pagamento dell'energia per 360 mila imprese già danneggiate pesantemente dal Covid. Stiamo mettendo in campo un provvedimento che complessivamente si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una parte di queste li metteremo a disposizione per gli interessi passivi di quelle aziende che in questo momento non possono pagare le bollette e quindi si rivolgono alle proprie banche per farsi anticipare. In attesa dei provvedimenti governativi noi pagheremo le bollette, pagheremo gli interessi sulle bollette, così come abbiamo fatto sui prestiti Covid che ha avuto un grande successo. Poi ci sono le piccole e medie imprese, quelle aziende che prima avevano 800 euro di energia, adesso ne avranno avuto 1.800, 2, 2, 5, 3, la studieremo, chiaramente non si rivolgeranno alla banca, la studieremo un bando ad hoc per vedere se possiamo dargli un contributo, il surplus che hanno pagato rispetto all'anno scorso. È evidente, spiega Fiola, che le misure che può mettere in campo la Camera di Commercio dovranno essere sostenute a livello nazionale con interventi specifici che il governo deve rapidamente adottare. L'intervento è di un'importanza tale che deve intervenire il governo e le forze politiche e dico basta chiacchiere, voi sapete come si fa, è inutile venire ogni giorno a dire perché c'è la scadenza del 25 settembre, chi vuole fare qua e chi vuole fare là, fate e basta, le imprese non possono più aspettare. Grazie a tutti.